ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo spacchettamento pokemon qui sul mio canale youtube oggi video molto speciale perché andiamo ad aprire per la prima volta voltaggio sfolgorante e molto speciale perché queste sono nove bustine pesate da me quindi andiamo a vedere se anche in questo set di voltaggio sfolgorante è vera la leggenda che i pacchetti più pesanti contengono qualcosa allora a parer mio non sarà non sarà così ovvero sarà molto difficile perché questo set presenta delle caratteristiche un po insolite per i vari set che abbiamo che abbiamo avuto come futuri campioni perché troviamo le carte amazing o meglio chiamate carte policrome allora intanto direi di andare subito a iniziare a spacchettare intanto volevo farvi vedere queste tre carte che ho trovato in un piccolo spacchettamento in edicola ieri mi sembra il giorno di uscita del set drapion zarud il nuovo pokemon la novità di questo set e fabia full art molto carini e niente andiamo subito a spacchettare come ho detto ho preso le carte le buste più pesanti proprio per fare un uno spacchettamento bello corposo per farvi ovviamente divertire vedere più carte rare allora questo è il codice stavo dicendo troviamo le nuove carte amazing in italiano è più corretto chiamarle carte policrome ce ne sono sei ce ne saranno sicuramente altre nei vari set che usciranno per adesso troviamo già i reci che a mio parere e a quello che si vede nel web è la carta più ricercata perché dal valore più alto perché è molto giocata poi abbiamo rei quaza abbiamo celebi zasyan e zamazenta e raikou quindi sicuramente nei nuovi set usciranno anche sui kun entei e penso anche altri leggendari comunque con il primo pacchetto andiamo a vedere cosa si nasconde ecco a posto della reverse troviamo le amazing le amazing non staranno nel all'ultima carta nella posizione della carta rara ma le troveremo nella posizione della carta reverse come abbiamo trovato le ultra shiny in destino sfuggente comunque la il primo pacchetto è pieno vediamo chi può essere metallo c'è stilix ok abbiamo trovato stilix v devo ricordarmi di guardare la camera perché sennò comunque la prima l'abbiamo già pullata andiamo subito a slibare eccola qui ho detto penso siano tutti pieni perché sono state pesate però ovviamente mi è capitato di trovare carte in bustine molto molto leggere quindi ovviamente c'è sempre l'eccezione io spero di trovare il ovviamente il pikachu v max in tutte e due le versioni va bene anche quello v max normale per non fare troppo gli ingordi e non andare direttamente a cercare quello hyper che dicono che è veramente veramente molto raro però a noi ci basta anche il v max normale ok giraffa rig niente amazing però credo sia pieno anche questo sì un altro stilix aegi slash questa carta penso ce ne sia veramente tante dicono che la più trovata attualmente di questo set ce ne stanno veramente una marea e noi non poteva mancare ok già stiamo al terzo pacchetto speriamo di trovare qualche amazing a me piacerebbe ovviamente il jreci ma come artwork mi piace veramente un botto rei quaza rei quaza è veramente stupendo jreci vale tanto perché è assolutamente molto giocato penso stia sui 50 le amazing vanno dai 30 ai 50 tutti ok c'è qualcosina anche qui allora devo ricordarmi di vedere il telefono ok sidot ivy spero si vedano bene le carte riolu niente amazing perché già ci siamo spoilerati la reverse formaggio mumu e e e oddio foglia zarud no orbitol un altro orbitol no non l'avevo trovato zarud io però quindi orbitol ci mancava fortunatamente ci mancavano tutte ancora nessuna full art nessuna rara segreta artwork di pikachu abbiamo finito gli artwork di pikachu perché erano 4 se non sbaglio speriamo di trovarne almeno uno in questo video comunque poi usciranno anche altri video di futuri campioni non farò uscire solo voltaggio sfolgorante perché come sapete con l'uscita di voltaggio sfolgorante sono uscite anche tre nuove collezioni di futuri campioni quindi spacchetterò un po' tutto allora exegude wismur di enzi rara si rara reverse quindi nessuna amazing ampharos ampharos in questo stile molto carino molto dinamico molto cartoon molto bello mi piace veramente tanto non era la carta che stavamo cercando ancora nessuna nessuna rara segreta nessuna full art voglio sentire il ruvidino allora nuovo pacchetto artwork di celebi amazing questo è l'artwork di celebi amazing con il l'olograficità che è veramente stupenda che io l'ho viste e hanno il l'olograficità ruvida poi sono hanno il tutte le energie brillanti ma sono stupende veramente spero veramente di trovarne una per farvela vedere ovviamente già ne avrete viste in altri video però io ancora non ne ho neanche una quindi ve la voglio far vedere in questo video niente amazing wismur uuuu raga pensate quello che penso io è giallino è giallino potrebbe essere allora dal pacchetto non riesco a vedere se c'è del giallino sopra la carta vediamo raga è lui è lui pikachu l'abbiamo beccato ragazzi allora questo non penso sia rarissimo perché l'ho visto trovare da veramente tante persone però raga l'abbiamo beccato che culo che culo pikachu v max pikachu che c'è in quattro versioni c'è la v la v full art il v max e il v max hyper veramente veramente una stupenda l'abbiamo beccata l'abbiamo beccato raga sono contento posso anche finire qui lo spacchettamento no scherzo allora ce ne mancano quattro il pikachu l'abbiamo beccato ah un'altra carta che non ho detto altre due carte che non ho detto che mi piacerebbe trovare sono il dandel dandel full art hyper veramente bellissimo e anche alakazam v full art raga mi fa morire quella carta veramente stupenda gli hanno fatto un artwork della madonna veramente allora a me ho wupper charmander tailo con stile pongo wubat ce la dai? no non ci da l'amazing uh questo è vuoto vuoto abbiamo solo una holo infatti ve l'avevo detto perché anche le holo pesano e la holo pesa come una v normale quindi è probabile che in queste tre non ci sia più niente fino ad ora c'è andato bene però è probabile che non ci sia niente perché anche le holo essendo appunto olografici e l'olograficità pesa parecchio è possibile non trovare nulla quindi tu pesi un pacchetto magari appunto ecco perché vuoi fare un video o quant'altro ma c'è il rischio che non non trovi nulla perché le olografiche pesano quanto le v normale allora questo mi sembra che ci sia qualcosa io spero penso sia una v normale ma spero che ci sia la amazing ragazzi niente osshawott e una v normale e questa è doppia zarud ce l'abbiamo qui zarud poco male perché penso sia si venda molto facilmente ho visto che sta su una quindicina di euro quindi penso che riusciamo a venderlo molto velocemente ultime due bustine con l'artwork di orbital e appunto di zarud che credo ci sia anche la versione v full art di zarud intanto il codice per voi ah ragazzi avevo anche questo ve lo regalo al volo ce l'avevo qui di fianco ecco questo è un altro codice che vi regalo allora oddio l'ho fatto si l'ho fatto l'ho fatto raga mi sembra ruvidina mi sembra ruvidina l'ho fatto l'ho fatto allora intanto qui c'ho ancora tutto in mezzo crocoroc madonna raga speriamo che ci sia la vmax ci sia una hyper e ci sia anche una mamma mia sarebbe uno spettacolo forse chiediamo un pochino troppo allora vediamo niente svubat però questa dovrebbe essere ruvidina difatti è ruvidina non credo sia hyper hyper perché l'hyper comincia già da sopra però potrebbe essere una v full art o un allenatore vediamo no è una full art l'ho beccato l'ho beccato quello che volevo l'ho detto prima ragazzi madonna ma che spettacolo ma è veramente una carta stupenda ma che gli vogliamo dire a questa cavolo di carta cucchiaio zen signore della mente raga questo artwork di alakazam è veramente qualcosa di di eccezionale l'hanno secondo me raffigurato nel nel modo migliore che potevano raffigurarlo veramente stupendo ho trovato due delle carte che volevano spero solamente che in questa ultima bustina ci sia un amazing dicono che sono veramente tanto rare se ne trovano un paio in un box da 36 bustine se sei fortunato ne trovi anche tre se sei sfigato ne trovi neanche non ne trovi neanche una non ne puoi trovare una non ne puoi trovare neanche una allora sentiamo metto il ditino dovrebbe essere una v non metto il dito sulla reverse perché voglio godermi fino alla fine voglio avere fino alla fine la suspense di trovarla però all'ultima dovrebbe essere una v normale non ho sentito ruvido ma ho sentito il il pattern delle v dunque chutol niente raga the den the den reverse e chi ha questo? pikachu l'abbiamo beccato anche versione normale pikachu v l'abbiamo beccato in 2 su 4 l'abbiamo preso raga io penso che come primo video ecco ve le faccio rivedere abbiamo trovato veramente tanta tanta roba ovviamente l'avevo già detto che erano pesate quindi era solo per portarvi un un video molto carico di belle di belle cartine io penso stiamo sui 100 100 e passa di bottino eh ageslash stilix orbitol pikachu zarud che ho doppio e ampharos per quanto riguarda le v normali e poi pikachu v max e alakazam v full art raga 2 delle carte che volevo trovare specialmente lui veramente veramente molto soddisfatto e contento di questo primo spacchettamento di voltaggio sfalgarante per questo video è tutto ricordatevi di lasciare un like un commento e di iscrivervi al canale noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti